Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ormai vedo e noto che è la rubrica più amata nel canale YouTube, se è chi sta amato, quella di Indovina l'Elo, ovvero la rubrica in cui ricevo le vostre partite, le analizzo, le commento insieme e poi provo a indovinare il punteggio Elo. Vediamo un po' se questa volta riuscirò a indovinare questo punteggio. Se volete partecipare a questa rubrica, seguitemi su Instagram e inviatemi tramite messaggio privato la vostra partita e così la commenterò. So che ci sono alcuni che l'hanno inviata settimane fa, però a poco a poco cerco di accontentare tutti. Cominciamo subito. Nel video che avete già fatto ti chiedo di salire a YouTube cliccando qui sotto e attivando la campanella per non perderti i prossimi video. Il fan che mi vedo la partita è il bianco, gioca E4, E5, cavallo F3, cavallo in C6. Ok, qui come sappiamo si può giocare l'apertura italiana con l'alfile C4, o la scozzese con D4, o la spagnola. Sono tutte aperture che ho commentato nella rubrica Aperture di Scacchi in 10 minuti, quindi andate a vedere la playlist se volete approfondirle. Vediamo cosa gioca qui il bianco, l'alfile B5, la spagnola. Magari vi metto qui sopra proprio il video sulla spagnola, ma nella playlist le trovate tutte. Donna F6 gioca il nero. Questa non è una mossa corretta. In linea generale non bisogna uscire la regina in apertura. A parte casi eccezionali, tipo la scandinava, ovviamente quella è una difesa corretta, ma concettualmente uscire la regina in apertura è sbagliato. È sbagliato. È sbagliato perché la regina poi è esposta ad attacchi e quindi rischia di perdere molti tempi, molte mosse per trovare una casa al sicuro e il bianco ne approfitta sviluppando i suoi pezzi. Vediamo allora se il bianco qui ne ha approfittato. C3, ok. Il bianco continua con il suo piano. Il piano della spagnola infatti sappiamo che è quello di conquistare il centro con C3 e D4 e quindi mi sembra corretto continuare del proprio piano. A6, alfiere A4, ok. D6, arrocco. Allora qui forse si può subito giocare D4, che è un po' più incisiva. È vero, e lo consiglio infatti anche durante il corso che tengo di gruppo, che spinge, quindi attaccare al centro prima di aver arrocato non è concettualmente corretto. Però il fatto che il nero ha la regina esposta e il cavallo inchiodato mi fa pensare che qui D4 potrebbe già essere una mossa che porta un vantaggio posizionale considerevole. Perché D4 cosa minaccia? Alfiere G5, si sviluppa un pezzo con guagno di tempo, mi ha aggiunto la regina, e D5 si attacca il cavallo inchiodato. Quindi potrebbe essere interessante. Comunque, poco corto, alfiere in E7. Feci 2, no. Qui, qui D4 per forza. Qui proprio sono sicuro al 100% che è la migliore mossa per il bianco, ma senza alcun dubbio. Hai già il real sicuro, vi è tutto pronto per attaccare. Il tuo avversario ha questa regina in F6 che non sa cosa sta a fare, quindi dobbiamo attaccare D4. Si apre la diagonale dell'alfiere, siamo pronti a portare l'alfiere G5, siamo pronti ad attaccare il cavallo inchiodato. Pezzo inchiodato va attaccato, quindi si minaccia a D5. Dunque, inoltre, se il neo cattura, sei contentissimo. Perché? Perché l'avversario è il real centro. Quando l'avversario è il real centro dobbiamo aprire le linee. Questo, per esempio, è un concetto che più volte ho fatto vedere durante il corso di gruppo, con alcune partite anche di grandi panestri famosi, che hanno sfruttato la debolezza del real centro per poi vincere la partita. ed è proprio quello che potevi fare tu in questa partita. Alfiere C2, cavallo in H6, H3. Qui si è giocando un po' troppo timoroso, bisogna appunto attaccare. Arrocco, D4. Bene. Donna G6, attenzione perché H3 è una bella debolezza. Qui il nero minaccia, alfiere per H3. Re in H1. Ok, bene che ci sei accorto della minaccia. Alfiere in F6. Però vedi, qui hai dato quasi un senso alla regina del nero. Cioè, attualmente non vedo alcun problema al fatto che la regina stia in G6, anzi. Probabilmente sta meglio in G6 piuttosto che in D8. Quindi bisognava evitare questo. Bisognava subito attaccarla e far comprendere all'avversario che la regina F6 era un errore. Alfiere F6. Pedone per E5. Cavallo per E5. Cavallo per E5. Alfiere per E5. F4. F4 mi piace perché si guadagnano un po' di tempi. Ora vi è una bella minaccia tattica. Vediamo se l'hai vista. Ma in generale, se vi va, mettete la posa al video e vedete qua come il bianco vince. Anche se comunque è mossa al nero. Quindi cosa dovrebbe fare il nero e poi come vince il bianco. F6. E5. Esatto. L'hai vista? Bene. Qual è l'idea? Attacco di scoperta. L'alfiere attacca la regina. E attacco contro l'alfiere. Qui vi è anche una cosa interessante. No, ok. La regina si salva in G3. Stavo pensando che se il pedone fosse in H2, ricordiamo che H3 non è stata una mossa forzata. Se potete avere il pedone in H2, la regina era intrappolata. Però in realtà non è vero perché comunque vi era donna G4, ok? Quindi la regina ha case di fuga. E inoltre, poi c'è la cosa F5. Tanto l'alfiere è comunque perso. Alfiere per F5. No, non mi piace. Quando dovete scegliere se cambiare i pezzi, pensate sempre a quale pezzo è più attivo. Qui questo cavallo è inchiodato. È vero che può dare uno scacco a re, per carità. Però poi vi è la regina attaccata. Quindi io avrei tranquillamente gatto l'alfiere. Se è da scacco, va bene, non c'è niente. Reggi 1, via. C'è sempre la regina attaccata. E secondo me qui, questo alfiere è molto più forte di questo cavallo. Infatti sta cominciando a minacciare anche eventuali miacci di matto. Donna poi F6, ok. Torre in F3. E poi si comincia a creare un attacco. Secondo me l'alfiere valeva di più del cavallo. Comunque ovviamente non è un errore gravissimo. Alfiere per, alfiere per. Pedone per. E attenzione qui. Invece sì che è un errore grave. Perché adesso, il cavallo è in presa. Due pezzi attaccano e un pezzo difende. Vediamo se se ne è accorto il nero. No, non se ne è accorto, ok. Te la sei vista brutta. Qui, allora, alfiere per F5 non è solo un concetto di l'alfiere più forte del cavallo. Ma proprio che qui dopo alfiere per alfiere viene il cavallo attaccato. Quindi tu da creare un pezzo in più e ristabilisce il nero alla parità. Assolutamente. Qui, alla prossima, il nero può tornare. Su primo e per G7, ok. Repair. Qui la posizione mi sembra pari. G4 continua. Il cavallo è sempre tra queste punte le persone che ne è accorto. Però forse c'è F5. F5. Alfiere per 4 scacco, certo. Intermedia. E quindi qua la posizione è pari. Donna G7. Donna in E1. D5. Donna in H4. Mi piace questa manovra per portare la donna in H4 perché ora si miace alfiere H6. Si sfruttano le case debole, scure del nero. Torre in E8 per evitare l'alfiere H6. Ma attenzione qui perché alfiere H6 mi sembra comunque forte. Vediamo un po'. Alfiere H6 viene giocata. Donna H8 unica. E ora, guarda qua. Questo suggerimento, questo consiglio che vi sto dando è anche per trovare eventuali tatticismi. Qui immaginate che il bianco non abbia il penone in G4. Quindi questo penone non ci sia, non ci sia più nella scacchiera. Cosa giochereste? Semplicemente, torre G1, scacco matto. O meglio, unica donna G7 e poi si cattura. E allora la mossa corretta qui del bianco è G5 che sarà proprio giocata. Quelli dei G5 è proprio eliminare questo pedone. Quindi su pedone a fila per F5 gioca il nero, ok. Se avessi catturato in G5 vi è donna per e poi c'è matto. Fire per F5, torre per F5. Sì, giusto, perché se no sul penone per c'è il fire G6 che difende tutto. Quindi torre per F5. Scacco, qua dobbiamo solo evitare gli scacchi. Re H1. Torre in E6. Torre in F1. In realtà qua già il penone per F6 vince. Perché si minaccia matto in una e sul torre per si cattura la torre. La regina non ha case. Quindi già per F6 qua vince. Torre in F1. Penso che ritarda solamente la vittoria. Torre in E4. Donna in H5. Forse un pelo più precisa donna G3. Qual è l'idea? Si minaccia matto in una. Semplicemente. Se il nero cattura si cattura in G5. Donna in H5. Torre in E8. Per una per F6 finalmente la colonna G è aperta. E a questo punto non ci sono più chance per il nero. A qualsiasi arriva il matto. Molto, molto bella questa partita. E secondo me anche istruttiva. Perché è un attacco andato a buon fine. Molto, molto interessante. Quindi mi è piaciuto parecchio. E secondo me il tuo punteggio non dovrebbe essere basso. Allora, ricapitoremo un po' gli errori. Ok, qui in effetti D4. È stata mancata. E poi anche il cavallo in presa. Ok. Allora, io direi 1300. Secondo me è 1300. Vediamo un po'. Clicchiamo nel link. Ditemi voi nei commenti che punteggio pensate in questo esatto momento del video. Quindi mettete pause e commentate. E vediamo se qualcuno indevina. Clicco. 1423. Ok. Vabbè. C'ero comunque quasi. Insomma. Vicino. Non troppo lontano. Dai. Allora, ho giocato assolutamente bene. Ci sono alcuni errori. Poi mi saprai nei commenti. Se ti sono chiari. Come li ho spiegati. E ci vediamo alla prossima. Vi lascio qui dei video in sua impressione da vedere. Ciao. 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 Grazie.